Come tutti i programmi si fissano degli obiettivi che sono al massimo dell'impegno, al massimo del risultato. Noi stiamo trasmettendo, diciamo prima, la documentazione appena approvata il 15 febbraio dal Consiglio di Amministrazione lo stiamo trasmettendo ai ministeri competenti, quindi al MIT, al MASE, al Ministro della Cultura per le valutazioni conferenze di servizio e valutazioni di impatto ambientale. In base ai termini previsti dalla legge, non da noi, queste attività si possono concludere con il CIPES entro la fine di giugno. Se questo si verifica, come io penso si verificherà, in estate possiamo avviare le prime attività sul territorio, quindi i primi lavori sul territorio. Ovviamente è un progetto complesso, quindi richiede un avvio anche dell'attività sul territorio graduale, non è una cosa che esplode in un attimo, ma voi conoscete come vanno i grandi progetti, quindi non c'è bisogno di entrare nel dettaglio. L'ottimismo è quello dei fatti concreti, quindi io elenco le cose concrete, positive, fatte finora, le indicazioni e poi l'esecuzione delle indicazioni. Quindi abbiamo un Parlamento, il Governo, il Ministro, che hanno deciso di riavviare questa attività, gli hanno riconosciuto una priorità rispetto a tutti gli altri progetti, una valenza strategica, una copertura finanziaria, praticamente per tutto l'importo dell'investimento. E questa non è cosa marginale. Cioè, noi siamo abituati, o ci siamo abituati in passato, magari a coperture parziali, di anno in anno, l'aggiunta di risorse, i tratti funzionali. Vi ricordate i tratti funzionali, no? In questo caso, invece, noi abbiamo detto con il Ministro Salvini, io perfettamente d'accordo, che l'operazione deve partire con l'intera copertura del fabbisogno. Allora, questo verrà sancito dal CIPES. Già abbiamo una legge finanziaria che ha fissato quasi 12 miliardi di risorse. Quindi, questo è un fatto concreto che ci fa essere positivi sul dire che l'attività è in corso, i fatti concreti si succedono. Una volta aperti i cantieri, abbiamo la copertura finanziaria per completare il lavoro. Tutto il progetto sarà completamente trasparente e a disposizione di tutti. Grazie.